Un festival di Luttagipo che vuole mettere in primo piano l'eccellenza della nostra terra, l'eccellenza che la nostra terra ha saputo generare in tutti i settori, in quelli della musica, ma non solo in quelli dell'arte e in quelli chiaramente anche della nostra cucina o della nostra architettura. Tutto chiaramente è stato portato poi a livello internazionale, perché nel 1700 eravamo presenti in tutte le corti europee con i nostri musicisti. Pensate che a Stoccando c'era Iommelli, a Londra c'era Porpola, a Mosca, a Pietroburgo, la musica classica l'abbiamo portata noi, cioè significa che la prima opera in lingua rossa è una scritta napoletana che si chiama Francesco Araia. Francesco Araia scrive per Elisabetta Lazzarina, insieme al poeta Alexandre Sumagnof scriverà la prima opera in lingua rossa e da quel momento ci sono 60 anni di storia della musica tutta napoletana, perché c'è andrà Cimarosa, c'è andrà Maesiello, c'è andrà Andrea Ozzi, c'è andrà Tritto, c'è andrà Cimarosa Sacchini, quindi tutti i nostri maggiori operisti praticamente faranno sì che Glinka, il primo peristadelo russo originale, praticamente non farà altro che imitare i nostri musicisti delle aree e invece costruire nei cori, nei grandi cori, quello che era il canto Zanavendi, cioè il canto ortodosso che si usa nelle chiese russe e viene a Napoli Glinka a conoscere Bellini, Bellini è l'ultimo esponente della scuola napoletana, poi dopo c'è stata l'Unità d'Italia e qui mi fermo. Mi fermo perché, primo per presentarvi lo spottacolo di stasera che sarà spettacolare, meraviglioso, cioè chiaramente Ferdinando non solo amava, e anche nelle corte, tutte le corte che si sono succedute a Napoli, non è che amavano soltanto la musica corta, ma tra l'altro gli stessi musicisti corti prendevano proprio spunto dalla musica popolare e quindi grazie a Carlo Faiello e ai suoi meravigliosi presenti in tempo di stasera noi rivedremo un momento molto magico e particolare, quello che accadeva fuori dal palazzo, fuori da quello che invece poteva essere un certo tipo di fusi, un certo tipo di cultura che si svolgeva all'interno delle corte, anche Ferdinando fuori uno strumento che era la lina, era una specie di ronda di cui si scriveranno dei brani e quell'epoca proprio a dedicare a lui, ma vorrei invitarmi anche dopo a visitare la nostra esposizione, perché quest'anno non solo avremo musica, ma abbiamo le eccellenze cantane nel campo dell'editoria e dell'alto artigianato, quindi ci sarà una diuteria a Carme e Cotte, e volevo dire questo perché ieri mi hanno dato questa radizia, avremo un primo liceo di diuteria con costruzione di mandonino, cioè il nostro strumento, nella sua casa nuova, ci sarà una una curvatura ad indirizzo di diuteria, che sarà curata proprio dai nostri amici di anno e dopo, questo farei un grande applauso perché è veramente un grande che è un grande applauso. Stiamo recuperando, noi qui avevamo più di duecento di utai, altro che tre buoni, ci hanno spinto in questa strada qui, sopra qui, c'erano solo di utai in questa strada qui, via San Sebastiano, l'ultimo è stato in grande a Bellarosa, oggi i costosissimi, è stato uno dei maggiori, più rivisti della storia. Ma ancora, eccellenze campane, dell'agricoltura biologica, abbiamo l'azienda, le terre di Manu, che presentano una serie di prodotti incontaminati, bellissimi della nostra terra. Quindi questo è quello che noi vogliamo, ci saranno dei percorsi umidati, vedete qui dopo, magari vedrete questo l'implicito dove c'è anche la storia dei quattro conservatori e dentro c'è tutto il programma anche dei convegni, vi invito anche a venire i convegni oltre che altri concetti, che si andranno però la mattina. Quindi i convegni parleremo dei quattro conservatori, noi, faremo dei percorsi umidati dei luoghi della musica del Settecento, quindi praticamente dal San Carlo al conservatorio del popolo di Gesù Cristo, che adesso potremmo ammirare, la chiesta di Santa Maria della Colonna, a piazza Girologini, che sta restavando, stiamo recuperando anche i luoghi fisici di questa città. Quindi io vi amo un ascolto e speriamo di riuscire del nostro intento, quello di portare alta l'immagine della cultura della nostra città del mondo, come abbiamo sempre fatto. Carlo Caiello.